Matteo Ciofani, intanto è un ritorno a Pescara ma tante cose sono cambiate, no? Sì, tante cose sono cambiate, il centro è sempre quello, quindi sono contento. Questa è la città che comunque mi ha visto crescere. Dai 13 ai 20 anni sono stato qui, poi ho girato un po' per l'Italia e torno a un grande entusiasmo. Ecco, tu che hai vinto recentemente due campionati di Serie B, probabilmente conosci in parte il segreto per centrare questo risultato. Io non so se il Pescara può partire per vincere il campionato, ma tu vedi degli elementi che possono far sperare. Ma per vincere un campionato di Serie B bisogna creare un gruppo forte, un gruppo forte che abbia voglia di soffrire tutti insieme e di non abbattersi nei momenti di difficoltà, perché i momenti di difficoltà inevitabilmente arriveranno durante la stagione. Possiamo fare bene, la squadra è giovane, c'è un buon mix di un po' più gli anziani, di cui faccio parte io. E quindi aiuteremo questi ragazzi a crescere, perché hanno veramente delle buone qualità. E poi vedremo cammin facendo. Senti, conosci Gessa con cui hai giocato, ma conosci soprattutto Pilon che ti ha allenato ad Ascoli? Sì, sì, lo conosco, lo ritrovo dopo nove anni. Non è cambiato in una virgola, quindi sono contento. È una delle motivazioni per cui ho scelto Pescara, perché comunque è importante che un allenatore ti conosce e ti stima. È lui che mi ha fatto giocare ad Ascoli la prima partita, le prime partite lì, quindi sono contento. Senti, lasci una piazza a cui sei immagino legato, perché tanti anni, poi due promozioni. Ecco, c'era la possibilità per te di giocare ancora in Serie A, invece sei arrivato a Pescara. C'è un po' di rimpianto? No, no, c'è stato un rinnovamento generale, anche vedendo gli ultimi acquisti, sono stati 16 acquisti, 17 acquisti. Quindi comunque c'era questo rinnovamento che era stato anche preventivamente annunciato dal Presidente. Quindi a ritorno al Canada sono stato chiamato e mi hanno detto che comunque non rientravo più nei piani e dovevo trovare una sistemazione. E quando è uscito a Pescara ho detto subito di sì. Ma che Serie B sta per nascere? È una Serie B più dura, più dura perché le squadre sono di meno, quindi anche più forti perché si sono rinforzate tutte. Ci sarà sempre meno spazio tra i play-off e i play-out, quindi si giocherà sul filo dell'assoio e sarà un campionato molto combattivo. Senti, troveremo un Matteo Ciofani un po' più difensivo o capace di spingere, di farsi vedere tanto in avanti? Vedremo, vedremo cosa richiede la partita perché non sono uno che spinge tanto per, quindi se la partita richiede di spingere ho anche quella qualità di spingere. Se la partita richiede di stare un po' più bloccato per via dell'avversario starò più bloccato, dipende da quello che mi dirà il mister, dipende da tante cose. Grazie. 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 Grazie.